Buongiorno a tutti da Autocazzaniga. In questo video vi andiamo a presentare una stupenda Lancia Delta Evoluzione 1 che abbiamo riportato in condizioni originalissime per un nostro cliente. Abbiamo colto l'occasione per presentarvela. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Si tratta di una Lancia Delta Evoluzione 1 in un colore abbastanza raro che è il verde derby metallizzato. Trattandosi di una Lancia Delta Evoluzione 1, la vettura è in tutto e per tutto una Lancia Delta non catalitica. Caratteristiche esterne sono i gocciolatoi tradizionali e simili, anzi uguali alle Lancia Delta 4WD 8 valvole e 16 valvole. Eccoli i gocciolatoi anodizzati. Esternamente abbiamo la ghiera del serbatoio nera e possiamo notare i cerchi in lega da 16 che erano di serie per la Evoluzione 2 ma sono ammessi anche per l'Evoluzione 1. Infatti questa macchina conserva a parte anche gli originali cerchi Speedline Monte Carlo da 15. Questo esemplare di Lancia Delta Evoluzione 1 verde derby è iscritta al registro storico Lancia in classe A1. È perfetta e tutta originale, persino le targhe che per privacy non mostriamo sono originali dell'epoca con la sigla della provincia. In questo esemplare la vetratura ovviamente è tutta bronzata in quanto trattasi di Evoluzione 1. L'alettone che ha tre posizioni in questo caso è posizionato nella posizione intermedia. Passiamo ora a vedere l'interno della vettura. Possiamo aprirla intanto che faccio una carrellata dell'esterno andando a vedere che gli interni sono in Alcantara grigio scuro. Sono i Re Caro Bassi in Alcantara grigio scuro, interno tipico di quasi tutte le Delta Evoluzione 1. Per chi non lo sapesse la Lancia Delta Evoluzione 1 di serie montava i sedili Sefi in tessuto Missoni, ovvero i sedili che erano di serie anche per la Lancia Delta HF Turbo. Ovviamente poi però tutte o la maggior parte delle Lancia Delta montavano l'optional sedili Re Caro, che sono questi. Per quanto riguarda il cruscotto abbiamo il volante dedicato all'Evoluzione 1 e il check control in cruscotteria caratterizzante tutte le Lancia Delta Evoluzione 1. Questo esemplare di Lancia Delta non ha né l'ABS, né il clima, né il tetto apribile, che erano degli optional spesso che a volte venivano montati in più su queste vetture. Posteriormente anche gli interni sempre in Alcantara grigio scuro. Possiamo notare nel bagagliaio la cappelliera in tonsa originale Lancia, ovviamente ancora conservata, e la ruota di scorta con tutto il set di attrezzi. Ruotino di scorta per la precisione. Passiamo ora a vedere il vano motore dove possiamo notare subito una chicca che è il restauro che noi facciamo al coperchio punterie che come potete notare si presenta ora in condizioni pari al nuovo, restaurato a nuovo. Ecco uno zoom sul coperchio punterie. Come possiamo notare nel vano motore di questa Lancia Delta Evoluzione 1 non è presente né l'ABS né il clima. I tappi sui duomi degli ammortizzatori sono presenti, la macchina è tutta originale. Cos'altro dirvi del vano motore che è perfettamente in ordine? Su quest'auto noi abbiamo rigenerato il coperchio punterie, abbiamo messo tutte le guarnizioni del coperchio nuove, abbiamo effettuato una rigenerazione agli ammortizzatori, nonché una revisione completa contagliando dalla vettura stessa. Per quanto riguarda cinghie distribuzione, pompa dell'acqua, erano stati fatti precedentemente, quindi questo ultimo nostro restauro è andato proprio a riportare in ogni minimo dettaglio l'originalità, andando a eliminare quei piccoli difetti che aveva l'auto e che non la rendevano completamente originale. Un'altra caratteristica per precisione che non è originale ma che va ad arricchire un po' l'auto è questo logo HF sul parafango sia sinistro che destro, che erano di serie sulle vetture Evoluzione per il mercato giapponese. È comunque un badge adesivo che può essere in ogni istante tolto. Possiamo chiudere tutta l'auto, come vedete è un esemplare veramente che merita e in condizioni pari al nuovo. Diciamo che in questo caso il nostro intervento è stato di affinare già una vettura che di suo era in ottime condizioni. Vi ricordo che noi di Auto Cazzaniga siamo specializzati nella manutenzione e nel restauro di tutte le lancia delta integrali. Se avete bisogno di qualche consiglio o volete chiederci qualcosa in merito alla lancia, contattateci oppure venite in sede da noi con la vostra delta che esamineremo insieme eventuali interventi da apportare alla vettura stessa. spettacolare e rarissimo il colore verde derby. Con questa ultima immagine della lancia delta evoluzione 1 verde derby noi di Auto Cazzaniga vi salutiamo e vi diamo un arrivederci al prossimo video. Un saluto da Davide Cazzaniga. Ciao a tutti.